Baldini Vernici presenta Opalite Colors, il colore a portata di mano. Cari amici, siamo di nuovo qui per un nuovo match tra la campionessa Paola e suo marito, l'ostinato Giacomo. Vince chi dipingerà meglio il loro nido d'amore, l'altro farà il bucato per un mese. Pronti pennelli? Via! Paola parte di scatto con la pittura Opalite Colors, che è già pronta per l'uso e disponibile in ben 12 colori. Mentre Giacomo usa la più economica che ha trovato. Paola stende il colore con semplicità e avanza a grandi pennellate, lasciando Giacomo sempre più indietro. Paola guadagna terreno e ottiene un effetto uniforme e vellutato. Ultima pennellata e Paola va a concludere, mettendo a segno un'altra vittoria. Mentre Giacomo raddoppia le brutte figure e vince un mese di lavatrici. Ma sì ragazzi, l'importante è aver trovato il partner ideale per la vostra creatività. Per un risultato senza sorprese, scegli Baldini Vernici, la tua soluzione a portata di mano. Per un risultato senza sorprese, scegli Baldini Vernici, la tua soluzione a portata di mano.